Sì, sono contento per il gol, un po' meno per il risultato perché speravo di portare a casa i tre punti perché comunque era una partita importantissima in chiave playoff. Peccato perché comunque l'avevamo messa indirizzata sulla strada giusta e purtroppo ci siamo fatti rimontare. Però non è tutto da buttare, bisogna ripartire assolutamente perché siamo lì e dobbiamo giocarci alla fine alla fine. Qual è la tua analisi su questo calo un pochino del secondo tempo? Abbiamo subito quei dieci minuti di spinta della Ternana dove magari andando in doppio vantaggio forse avevamo pensato un po' di averla chiusa la partita. Però questo ci deve far riflettere e continuare a lavorare per cercare di limare questi errori perché comunque nelle ultime tre partite ci siamo fatti sempre rimontare e se vogliamo raggiungere un obiettivo importante bisogna comunque invertire un po' la rotta. Però questo è un gruppo che lavora veramente sempre al massimo e di sicuro diremo la nostra da qui alla fine del campionato. Tornando alla tua prestazione personale, insomma un gol cercato, trovato, quasi il mister mi sembra che l'aveva così augurato, anticipato. è un modo per tenersi sempre pronto per te, no? Sì, sì, assolutamente. Io lavoro veramente sempre al 110% per cercare di farmi trovare pronto in qualsiasi occasione mi viene concesso. Quindi sono contento, come ho detto prima, di aver fatto gol. contentissimo comunque di aver fatto anche l'assist a Ciccio e un po' meno per il risultato perché volevamo vincere. Io darò sempre il mio contributo da qui alla fine e cercherò sempre di sfruttare qualsiasi occasione mi viene concesso. Quindi è il momento di spingere, magari sono quello più fresco, tra virgolette. e bisogna darci dentro e da qui alla fine cercherò sempre di dare il 110%. Che pubblico ha apprezzato l'applauso finale all'uscita e testimonianza. Sì, sì, li ringrazio tanto, ma diciamo che comunque il nostro pubblico ci ha sempre sostenuti a tutti. Anzi, veramente li ringrazio di cuore perché ci danno sempre il loro sostegno e ce lo fanno sentire. Quindi da un applauso anche a loro.